Il 15, il 16, il 17 marzo a Vieste arriva il Fanoia Festival, sarà un calendario ricco di eventi, cosa c'è in programma? Sarà un programma ricchissimo di eventi che fa capo a una festa che ormai è una tradizione, di estana, garganica, un evento con laia maiuscola. La Fanoia ormai ha preso la posizione di evento cardine della primavera, possiamo anche dire pugliese. Questo grazie a un grande lavoro organizzativo dell'associazione Pizziche e Musiche di Vieste, insieme al Comune di Vieste, a tutti gli sponsor e anche ai detti ai lavori che hanno organizzato un programma davvero stupendo. Lui non lo diciamo in maniera retorica, quest'anno come tutti gli anni si persegue con l'obiettivo di migliorare, di aumentare anche l'onda emotiva che fa capo comunque a un discorso che lega tradizione, cultura, musica. Ci saranno tantissimi gruppi che parteciperanno, sarà un'altra giorni ricca anche di sorprese, di spettacoli, tutto che fa capo a un unico filo conduttore che lega la musica tradizional popolare e locale. Grazie. 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 Grazie.